Due squadre partite a razzo nel campionato di Serie A stanno vivendo momenti opposti. L'Aquila arriva dal colpaccio prestigioso a Gran Canaria contro i vincitori dell'EuroCup. I partiti europei invece non vincono in campionato da tre gare consecutive. Il primo possesso è di Napoli. Haab non ha intenzione di perdere tempo. Prentis Haab in transizione. Di nuovo il pallone per lui. Alza la parabola morbida con il flutter. Di Liga a schiacciare. Va con la Pimane per essere ancora più sicuro. Alla fine Terry Cowens trova l'appoggio. Il parziale di Napoli riporta a mino tre. Si lancia in contropiede. Tyler Ellis a realizzare. Ellis riapre per Forrai. Poi il pallone ancora per Ellis. Da tre punti in e-out. Rimbalzo di Grasciulis. Che va a realizzare nel cuore dell'area. Allunga Trento. 29 a 22. Ellis. Torna da Haab che vola per Derek Cook. che schiaccia il più 9. De Nicolaou prova ad andare fino in fondo. Ennis si appoggia al tabellone assorbendo bene il contatto. Abba. Autore di otto punti nei primi minuti di partita. Poi si è un po' fermato come dicevamo. Sta trovando tutti i compagni. Ancora un assist. Trento prova ad azzannare la preda. Con Alviti frontale da tre. Ancora a segno. Esplode il pala Trento. Jacob Pullen da otto metri. A segno anche lui. Dobbiamo continuare a giocare in questa maniera aggressivi. Cercare di correre il più possibile e passarci la palla. Jacob Pullen proprio contro Haab. Prova ad andare fino in fondo. Pullen lo cancella. Biliga. Corre. Ellis a tutto campo. Deposita con la mano sinistra. Gran difesa di Pullen che gli ruba il pallone. Ennis a tutto campo. L'assist per Sokowoski. Ellis. Pisonera doppio. Riesce a uscirne. Graziulis. A realizzare. Appoggiando alla tabella. Ennis cerca e trova lo scarico per Pullen nell'angolo. De Nicolaou a segno da tre punti per Giovanni De Nicolaou. e la prima tripla della partita. Cinque punti per lui. Mattia Udom nell'angolo destro. Poi la circolazione di palla. Alviti da tre punti. Zubcic ci prova dall'arco ancora la seconda bomba della sua partita. Ancora Pullen. Aiuto di Biliga. Zubcic. C'è spazio per Ennis. 27 punti per Tyler Ennis. C'è spazio per Jacob Pullen. Da tre. Adesso sono otto i punti di distanza. Graziulis. Dice che bisogna resistere. Prentiss Hub. 19 punti e 9 assist per lui. Prova ad attaccare Zubcic. Fino in fondo a realizzare. Il più otto. Pullen va a sbagliare. Il tap out in qualche modo raggiunge le mani di Hub. Non ci prova più Napoli. Trento. Torna al successo in campionato. Stiamo spazionando il nostro basket, ma spazionando. Stiamo spazionando. Abbiamo quasi spazionato questo. Ma si è finita bene. Quindi. Dobbiamo regroupare. E siamo pronti per il prossimo game. Stiamo spazionando il Bayern. Stiamo spazionando. E siamo pronti. E siamo pronti ragazzi. Dove sta spazionando il spot a tutti. Ciao. Mossa.